Vorrei che con la discussione di queste delibere si sta facendo forse un po' mischiando alcuni ambiti, diciamo che parliamo sempre ovviamente di Roma metropolitane, qui parliamo di sentenze di tribunali e che hanno generato dei debiti fuori bilancio, ovviamente c'è una responsabilità da parte di tutti a portare avanti queste delibere, perché purtroppo, e questo è veramente una cosa brutta, c'è stata come conseguenza anche il non pagamento degli stipendi, però rilevo in alcune dichiarazioni delle opposizioni un po' come mischiare alcuni ambiti, io sinceramente mi sento di respingere alcune personalizzazioni di certi attacchi ad alcuni assessori, le decisioni sono state prese dalla maggioranza, per quanto riguarda la delibera di liquidazione è stata una decisione per noi molto sofferta, ma in quel momento è stata presa da tutti quanti i consiglieri, è stato ritenuto la scelta migliore in quel momento e come ho detto stamattina anche in Commissione Mobilità, che si diceva che non era regolare quella delibera, no, era regolare la scelta, avevamo immaginato di dover fare anche uno scorpero con una cessione di ramo d'azienda per salvaguardare il perimetro dei lavoratori, lo so, è una scelta forte, non era una scelta forse completamente indolore, ma in quel momento era la meno dolorosa che potevamo immaginare, il lavoro che è stato fatto fino adesso ha portato ad uno sviluppo delle analisi, degli approfondimenti, del ragionare su questi argomenti al punto che si sta immaginando di poter anche valutare un percorso diverso da quella delibera, però in quel momento era la cosa migliore che potevamo fare, tutto possiamo dire a questa maggioranza, tranne che non ha deciso, che non ci ha messo la faccia, che non ci ha avuto delle persone che abbia avuto il coraggio di prendere delle decisioni, delle volte forti, ma ha avuto questo coraggio, delle volte condivisibili, delle volte no, è ovvio, abbiamo discusso tante volte di questi argomenti in assemblea e in commissione, però ci sono state delle decisioni, ci sono state delle decisioni ed ora c'è un'ipotesi, si può ragionare di poter arrivare ad una conclusione che sia meno indolore della decisione che con io dico responsabilità, noi abbiamo preso a suo tempo con la delibera con della liquidazione e valuteremo anche questo. Ripeto, alcune affermazioni fatte non le condivido, tipo essere, aver oscillato, creato danni, in realtà quelle scelte hanno dato maggior tempo e maggior respiro per poter prendere anche delle decisioni, altri tipi di decisioni. Oggi comunque ragioniamo di tre delibere che sono debiti fuori bilancio dettate da alcune sentenze, questo ce ne è ovviamente che siamo tutti concordi nel dire che darà più respiro ad una società come Roma Metropolitane che oggettivamente ha avuto un percorso molto articolato in questi anni, ma per noi non è stato possibile gestirla in un modo diverso perché era proprio la complessità degli argomenti che abbiamo affrontato, ha fatto sì che ci ha fatto prendere determinate decisioni e man mano stiamo andando avanti. Oggettivamente la questione degli interessi, lo abbiamo detto anche stamattina in commissione, è una cosa che va un po' chiarita, ma intanto facciamo un passo e lo facciamo con responsabilità votando queste delibere di debiti fuori bilancio in modo tale che si dà questo maggior respiro a Roma Metropolitane e intanto recuperiamo una situazione di normalità e usciamo da questa situazione assolutamente incresciosa in cui addirittura siamo arrivati anche al non pagamento degli stipendi. grazie Presidente